Davide Puntalandolfo della Locomotive Ricci, era importante vincere contro il Forum che si è dimostrato comunque avversario ostico ma Ricci ha tenuto ritmi alti e ha condotto la partita per larghi tratti riuscendo a tornare al successo che vi confirma in corsa per il vertice Allora sì, era molto importante vincere per restare in vetta, è stata una partita difficile, abbiamo sofferto molto Siamo stati bravi a resistere agli attacchi avversari e diciamo anche un po' fortunati, soprattutto a sbloccarla all'inizio Comunque è molto importante questa vittoria, almeno teniamo il passo delle altre, diamo qualche punto agli altri che sono sempre rivali molto difficili da affrontare Un campionato che quindi è giunto al suo primo terzo, Ricci lo sta conducendo ottimamente Che giudizio finora su questo giro dopo aver affrontato buona parte delle avversarie? È un campionato molto difficile, stiamo andando molto bene, tranne la battuta d'arresto con l'Isernia Squadre molto attrezzate anche di media classifica, campi difficili come ad esempio Spinete Proprio questo è il Forlì del Sannio, anche se era un campo molto difficile, però al momento stiamo andando molto bene